Ciao, sono Marta Volontè. Mi chiamo Antonio Facco. Mi chiamo Matteo Curti. Siamo Rocco e Olivia Romitali. Sono Francesca Lanza Vecchia. Sono un pittore con lobby della scultura. Faccio tante cose. Una mano per AIL. Mi piace partecipare a queste donazioni. Non è questa la prima foto che regalo ad AIL. È una partecipazione che continua a riempirmi d'orgoglio. Sono molto grato ad AIL Milano. Quanto è importante sostenere la ricerca. Una causa che è fondamentale. Grazie.